... Floriana, anche quest'anno chiudete il calendario della Camera di Commercio con il concerto Gospel. Sì, quest'anno tra l'altro nella stessa data dell'anno scorso, 23 dicembre, speriamo ci porti fortuna come ce l'ha portata anche lo scorso anno. Lo Shining Voices Gospel Choir questa sera si esibisce con la sua band, con la Shining Band. Faremo un bel repertorio Gospel riportando anche qualche brano della tradizione natalizia. Dobbiamo dire grazie alla Camera di Commercio che ha fatto sì che anche Crotone potesse vivere il Natale. Assolutamente sì, Crotone doveva vivere il Natale, è stato giusto che qualcuno prendesse in mano la situazione. Grazie alla Camera di Commercio come l'ho ringraziata anche lo scorso anno. Devo dire che veramente ci tiene sempre in considerazione e noi non possiamo che esserne felici. Poi con te che sei qui stasera è una garanzia? Ma speriamo, con me, con i ragazzi che cantano perché in fondo io non faccio proprio niente, sono loro che rendono il concerto particolare, unico, coinvolgente e poi appunto con la band è tutta un'altra storia. Quindi spero che veramente i crotonesi apprezzeranno quello che ascolteranno stasera. Vogliamo augurare un buon Natale e buon anno a tutti? Certo, buon Natale, che sia felice, che sia un happy day come quello che canteremo stasera per tutti.